che ha parlato della vergogna dei medici che vengono reintegrati ma gli vengono fatte mettere le casacche verdi oppure vengono sbattuti dentro una stanza come gli insegnanti prima cioè ragazzi siamo tornati indietro di quanto tempo voglio subito domandarlo ad Alessandro su questa cosa perché io poi dopo ho delle cose se riusciamo a vederle dei servizi importanti da mostrare perché ci stiamo cinesizzando e devo dire che se ne stanno accorgendo anche i grandi media che stanno lanciando un allarme cioè ci stiamo cinesizzando, grande controllo, influencer che ci raccontano puttanate scienza, anzi imposizioni scambiate per scienza insomma sta accadendo quello che in Cina già accade da tanto tempo ovvero un controllo totale delle persone e addirittura una negazione dei diritti sulla base di ideologie e questa credo sia una cosa importante io vorrei solo un primo commento da tutti e tre perché dopo lo approfondiremo e inizierei subito con Alessandro come al solito in ordine così di visione prego ogni entità umana nella storia della nostra specie sapiens sapiens noi auguriamoci di essere un po' dei sapiens 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 tre volte sapiens ha avuto bisogno di un principio organizzatore se non c'è un principio organizzatore non ci può essere una società umana e quindi noi non dobbiamo stupirci che stiamo entrando in una fase nella quale una successione di principi organizzatori che hanno fatto funzionare le comunità dei nostri antenati a partire dal Pleistocene e che erano basati all'inizio sul clan e la tribù di consanguinei che si riaccoppiavano nell'endogamia tribale cioè tra parenti e che riuscivano a riconoscere come propria parte e parte di sé non più di 200 persone ancora adesso gli etologi dicono che non possiamo reggere più della conoscenza di questi individui perché il nostro cervello è programmato per non memorizzare più di 200 facce poi questa situazione è stata sostituita dopo la nascita delle grandi religioni prima politeiste e poi monoteiste dal principio di Dio quindi ci si riconosceva non più nel clan e nella tribù ma si riconosceva nella divinità variamente declinata nell'antico Egitto prima il politeismo dei sacerdoti di Eliopoli poi il monoteismo di Amenofi IV che poi trasmigra in Israele con Mosè con la nascita del politeismo ben raccontato anche da Sigmund Freud poi il principio del potere basato sul divino viene sostituito dal principio identificato con il leader è l'epoca degli imperatori cioè si obbedisce all'imperatore dicendo che l'imperatore è Dio anche se sappiamo che non è Dio ma è come se lo fosse e quindi nasce la cultura del Medioevo il papà dell'impero, le due spade di papà Gelasio e poi la lotta per l'investitura e poi la pace di Vesfalia quando si decide che ognuno deve essere del potere della religione del principato dove nasce e guarda bene che la laicizzazione comincia e guardate che oggi il ministro degli esteri tedeschi ha tolto dalla sala di Monaco dove c'è un crocifisso il crocifisso prima della riunione del G7 cioè Dio deve essere espulso definitivamente dal meccanismo arriviamo ai tempi recenti dopo Spinoza Dio da chi viene sostituito? dalla natura allora ancora non obbedendo più alla tribù non obbedendo più al divino non obbedendo più all'imperatore ma obbedendo alla natura Deus si ve natura nasce un'idea nella quale è buono ciò che fa bene per la natura e quindi nasce la cultura del post-illuminismo alla fine questa natura deve essere quantificata e allora che cos'è? chi quantifica la natura, il suo bene, i suoi numeri? la scienza quindi la scienza diventa il principio ordinatore ed è tra tutti questi principi ordinatori forse il più funzionale perché garantisce gli arcana imperi cioè il fatto che soltanto quelli che hanno le mani in pasta possono dire che cosa è scienza che cosa non lo è ha dei principi funzionali cioè serve al potere come la tribù come l'imperatore come la natura e come l'ideologia della natura ha come dire dei meccanismi pseudo-oggettivi e pseudo-quantitativi e quindi è un principio organizzatore perché evidentemente i padroni del vapore dell'elita hanno scelto in modo consapevole lo stanno facendo in Cina lo stanno facendo qua e quindi la guerra contro questo principio ordinatore sarà durissima e la dovremmo fare soprattutto sapendo con che cosa sostituirla innanzitutto sostituendo la falsa scienza con la vera scienza ma siccome vera scienza e falsa scienza sono spesso rimescolabili purtroppo questo non basterà vorrei dire che dovrebbe essere sostituita da un'etica superiore alla stessa idea della quantità quella per esempio per la quale vanno garantite le minoranze cioè se anche la scienza dice che bevendo piscio di cammello si vive due anni di più e me lo vogliono mettere nell'acquedotto io dico no benissimo io preferisco non vivere due anni di più ma non voglio bere piscio di cammello quindi c'è qualche cosa che va al di là persino del vantaggio che deriva quantitativamente da un certo fatto che nelle Costituzioni si chiama garanzia delle minoranze dei principi costituzionali significa principio di libertà ma noi non dobbiamo stupirci che abbiano scelto la pseudo scienza come principio organizzatore del potere del diritto e di tutto questo quindi la partita è di lunga durata la cinesizzazione è esattamente questo la Cina del post marxismo che non è marxismo quello maoista che è soprattutto confucianesimo taoismo culture come dire di uno scintoismo che vuole invece mettere sempre al posto una pseudo sciazzezza che può essere di confucio, di laozene, di antenati è un mondo che non è il nostro non è quello di che è passato attraverso la cultura filosofica attraverso la Bibbia attraverso la filosofia classica tedesca però lo scontro, credetemi, è epocale e quindi adesso la lotta è contro una scienza finta scienza che non è scienza che è il scientismo e che serve come principio organizzatore come in altri tempi è stata la corona dell'imperatore la tribù la religione e quindi è la nuova religione non più la religione del profitto di Weber ma la religione della pseudo scienza e più tardi approfondiremo ancora vedendo questi filmati che abbiamo predisposto questi clip che abbiamo predisposto perché in realtà questo è il vero grande problema verso il quale andiamo incontro che già esiste la negazione totale dei fatti della realtà far passare per scientifico quello che in realtà scientifico non è ormai non abbiamo più neanche la voglia di continuare a presentare prove contro prove perché l'abbiamo già fatto poi dopo ne vedremo una che mette sostanzialmente il fine un po' a tutte le richiacchiere finisce qui l'importante adesso è capire come venirne fuori come cercare di evitare che l'umanità finisca in un baratro colossale e che per risollevarsi se per caso dovesse accadere impiegherebbe chissà quanto tempo Alberto due parole anche da parte io mi aggancio mi aggancio mi aggancio a quello che diceva Alessandro io sostengo una cosa in realtà questo fenomeno che stiamo vivendo l'aveva già descritto Illiot Thomas Alva Illiot nei Corri della Rocco quando aveva detto gli uomini hanno abbandonato tutti gli dèi tranne il denaro il potere e la lussuria contemporaneamente se noi stiamo osservando cosa è successo in questo secolo è un periodo che mi sto accapigliando in una chat che ha fatto sgarbi con 500 persone dove si incontrano tra l'altro delle persone molto interessanti però si incontrano anche degli appassionati sfegatati dell'intelligenza artificiale con i quali mi sto accapigliando parlando proprio del libro del professor Faggin e allora si scopre che c'è stato un fenomeno diciamo collettivo per cui in questo secolo è passato un concetto di riduzionismo materialista cioè considerare la scienza e considerare valido tutto ciò che è numerabile tutto ciò che è computabile tutto ciò che è raccoglibile tutto ciò che è confrontabile ma non quello che è incomprensibile come la spiritualità e pian piano tutto ciò che è spirituale è stato espunto dalla nostra vita quotidiana lentamente poi su questo io sto riflettendo su questo in questo periodo su questo nel frattempo sono sopraggiunti questi personaggi che hanno deciso di costruire un'agenda che approfitta di questo fenomeno creato dai fisici creato dagli scienziati per cui questo ha invaso tutti i campi pensiamo alla medicina che se non fai 500 esami non c'è più un medico che sia capace di capire che cos'hai cosa sei come stai diciamo siamo in bilico rispetto a devo dire a una quantità di opportunità che l'intelligenza artificiale ci offre per capire per esempio con degli esami computerizzati pensate alla meraviglia di una risonanza magnetica piuttosto che da una chirurgia assistita dai robot ma queste sono cose straordinarie però a supporto invece la lite che sto facendo con i riduzionisti è che tutto ciò che non si può misurare non si può numerare non esiste e questa è una roba tremenda contemporaneamente sono venute meno le grandi agenzie di senso cioè la chiesa sostanzialmente ha smesso ha smesso probabilmente di pensare e vedete che le liturgie che sono diventate delle cose vuote le chiese che si svuotano ma perché ma perché non parano più di aspirazioni ma persino i partiti persino i movimenti quindi io vedo ahimè quando Alessandro parla di lotta impari enorme che abbiamo di fronte è proprio perché c'è un movimento che viene da da cento anni e quindi ritorniamo a parlare di 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 benso che ci avevano messo in guardia e io ogni tanto parlo con un amico collega che sta a shanghai come ho già detto vive in un compagno di 4.000 persone che sarebbero tre palazzi altri 40 piani tutti circondati da un alto muro hanno un solo ingresso e in questo ingresso è dotato di telecamere che sono in grado di rilevare a chi sei a che ora sei entrato e che ora sei uscito se avevi la febbre perché sono telecamere che ripetono anche l'infrarossi termico e cioè cosa via allora quindi siamo presi in una tenaglia alla quale poi si sono sovrapposti questi che stanno imponendo tutto ciò che è numerabile e in più stanno imponendo teorie assurde come quella del gender come quella che non esiste una realtà biologica ma esiste una realtà stanno inventandosi una sorta di falsa spiritualità di se stessi non so come definirla quindi siamo immersi veramente in un brodo spaventoso da un certo punto di vista ecco perché i sapiens 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 devono devono aumentare la conoscenza e devo dire sono contento di incontrare oramai persone che mi fermano per la strada e ci ringraziano per questa chiacchierata che facciamo con la compagnia dell'anello questo è meraviglioso certo certo